Allora, Federico, abbiamo scoperto la firma digitale durante il lockdown e in quell'occasione sono state anche superate resistenze di tipo culturale all'utilizzo di questo strumento che oggi è di uso ormai comune. È rimasta un'abitudine consolidata o ci sono ancora delle resistenze da quello che vede come esperto del settore? Grazie per la domanda. Sicuramente il Covid lockdown ha aperto la mente agli operatori immobiliari e ha consolidato l'abitudine del end user che anche prima del Covid in altre realtà e in altri settori già utilizzava questa tecnologia. Pensiamo al settore bancario, pensiamo al settore assicurativo o pensiamo all'analisi del sangue. Oggi si fa tutto in digitale. Come dico sempre, noi nasciamo in tempi non sospetti. Come visione di innovazione, visione di trasformazione digitale in un settore che è un po' old style, quello dell'immobiliare. E quindi posso dire che assolutamente il Covid ha consolidato, ha fatto emergere questo bisogno che era latente e oggi si è consolidato ancora di più sia per gli operatori sia per gli utenti finali che abitualmente, quotidianamente oggi utilizzano questa tecnologia. La vostra tecnologia non è soltanto firma grafometrica, ma anche una serie di servizi offerti agli agenti immobiliari. Possiamo raccontare i principali? Assolutamente sì. A Realtors nasce come piattaforma digitale per accompagnare l'agente immobiliare nella digitalizzazione, per stare a passo con i tempi. E la firma digitale è uno dei servizi che noi offriamo e dove sicuramente siamo più riconosciuti in Italia oggi. Ma in realtà offriamo tanti servizi che permettono di facilitare il lavoro dell'agente immobiliare e come diciamo noi, come vogliamo noi comunicare all'agente immobiliare, tu preoccupati di quello che sai fare meglio, acquisire e vendere immobili che il resto pensiamo noi. Quindi all'interno della nostra piattaforma, che possiamo definire come una suite, c'è la possibilità di avere una moltitudine di servizi, firma digitale, creazione dei contratti in digitale tramite creazioni guidate o tramite caricamenti di PDF, c'è la possibilità di fare documentazione online, ho bisogno della visura ipotecaria dopo che ho preso l'incarico, è possibile farlo. Devo assolvere la normativa antiriciclaggio, posso assolutamente tramite la nostra piattaforma utilizzare il nostro servizio di antiriciclaggio che è completo e ti permette di assolvere con quattro clic alla normativa e dormire sogni tranquilli. E poi abbiamo anche altri servizi accessori che offriamo all'agente immobiliare proprio per, come dicevo prima, dare una suite che permetta di gestire un processo operativo dall'inizio alla fine, hand to hand. Quando parliamo di firma digitale ci riferiamo a cosa? Alla documentazione, dato che invece davanti al notaio bisogna essere tuttora presenti, vero? Assolutamente sì, noi abbiamo contribuito tramite il notariato e tramite dei nostri partner per veicolare anche tutta la parte di erogito digitale che con determinate tecnologie è possibile fare ancora oggi, ma l'ambiente notarile è sempre legandoci al mercato immobiliare un po' old style, quindi devo andare dal notaio sempre per, diciamo, situazioni normative che sono 1915, 1913, quindi comunque ci sono normative che impongono ancora la presenza. Noi quello che facciamo, diamo l'autorità tramite la nostra tecnologia di utilizzare la firma elettronica per tutto quello che la legge oggi consente di fare, quindi quelle scritture private che non devono essere autenticate da un notaio e non devono essere fatti ad esempio contratti sotto forma di atto pubblico. Quindi per quei tipi di contratti devo andare dal notaio, per tutto il resto si può utilizzare a rialto. Quindi anche per tutta l'attività, diciamo così, burocratica che a questo punto viene scaricata dalle spalle dell'agente immobiliare il quale può concentrarsi sulla propria attività core. Esattamente così, il nostro obiettivo è quello. La burocrazia toglie tempo e toglie energie, perché l'agente immobiliare, abbiamo fatto degli studi in Italia molto approfonditi sulle dinamiche dei gruppi immobiliari, sulle dinamiche dell'agenzia immobiliare media e la burocrazia stressa molto, l'agente immobiliare fa togliere tempo e molte volte non ha la percezione anche dell'investimento di soldi e tempo che dedica o personalmente o tramite i propri collaboratori. La tecnologia è un service per aiutare a facilitare, velocizzare e risparmiare tempo e quindi concentrandosi su quello che si fa far meglio, acquisire e vendere immobili. Questo richiede però anche da parte delle agenzie immobiliari, non tutte sappiamo hanno completato il processo di transizione digitale, anche di organizzarsi diversamente, di approcciare in maniera differente il lavoro rispetto alle tematiche tradizionali, anche i modi d'uso tradizionale. Assolutamente sì, ci vuole un'apertura mentale che come dicevamo prima il Covid ha accelerato questo bisogno latente che è poi emerso e quindi ci vuole anche un po' di impegno, bisogna un po' uscire dall'area di comfort, se io per tanti anni ho fatto sempre la stessa cosa difficilmente dall'oggi al domani mi abito a un'altra tipologia di processo di utilizzo. Quello che dico sempre io, che diciamo sempre agli agenti immobiliari è l'utente finale, come dicevamo all'inizio, è già abituato a questa tecnologia e quindi se l'aspetta, non è una scelta la uso o non la uso, perché l'utente finale se l'aspetta, non si aspetta che io dica devi venire in agenzia a portarmi, a firmarmi la proposta d'acquisto o l'incarico, oppure marito e moglie che stanno vendendo la casa, arriva una proposta, devono accettarla, sono in posti diversi perché fanno due lavori diversi in due città o nella stessa città, magari Roma, Milano e cosa fanno? Devo andare, mi devo coordinare, quattro clic e faccio tutto. Quindi ripeto, la tecnologia aiuta e soprattutto permette di adeguarsi al mondo che cambia e il mondo è già cambiato negli altri settori e noi contribuiamo tutti i giorni a cambiare, a consolidare il mercato immobiliare, dando e offrendo tecnologia. Qual è il vostro target di clientela? Nel senso che vi rivolgete direttamente alle agenzie, al singolo agente immobiliare o tendete più a fare accordi con le reti, i franchising a monte? Allora, la nostra capacità è quello di adattare i processi all'utilizzo dell'agenzia. Quindi noi oggi abbiamo parecchi accordi con gruppi che grazie a una centralità di utilizzo abbiamo permesso di avere dei plus sull'operatività e anche sul monitoring delle prestazioni, delle performance e altre cose. Ma in realtà il nostro prodotto lo diamo in utilizzo anche a agenzie immobiliari con due collaboratori, tre collaboratori. Quindi non abbiamo un target, abbiamo utenti diversi, cioè in piattaforma abbiamo utenti diversificati dai gruppi a reti e anche piccole agenzie che quotidianamente utilizzano il nostro strumento avendo il proprio ufficio in tasca perché il nostro payoff è arrivato sul tuo ufficio in tasca perché permette appunto di avere tutto in un'unica piattaforma, multi device, quindi desktop, pc, smartphone, dove sono in qualunque posto, in qualunque momento ne abbia bisogno. Quando si parla di firma digitale entriamo nell'ambito della riservatezza, di questioni molto delicate. Sicuramente vi sarà capitato che qualcuno vi abbia chiesto informazioni sui sistemi di sicurezza. Su questo possono stare tranquilli gli agenti? Assolutamente sì perché la nostra piattaforma oltre ad avere dei controlli periodici, degli audit periodici in ambito di sicurezza, di protezione dei dati e tante altre cose, abbiamo la garanzia grazie al nostro partner. Noi abbiamo scelto uno dei partner leader in Europa nel mondo digitale, nel mondo delle firme elettroniche, quello che è la contrattualistica digitale. Quindi questo ci permette di dormire noi sogni tranquilli, ma far dormire sogni tranquilli anche gli agenti immobiliari. Quindi possiamo indicare tre ragioni per cui un'agenzia dovrebbe scegliervi? Come dicevamo prima, l'agenzia immobiliare deve pensare a fare quello che sa far meglio, quindi non si deve stressare, non deve perdere tempo e se può risparmiare anche soldi, che molte volte magari non pensa di poter risparmiare, invece può farlo perché la tecnologia aiuta risparmiare tempo e soldi. Quindi sicuramente questo è un motivo importante. Poi noi siamo un abile alleato degli agenti immobiliari. Io quando ho letto le recensioni dal Covid, ma anche dopo, del grazie ad Ari al torso, in lockdown, ho fatto tre vendite, ho preso l'incarico, noi siamo a braccio degli agenti immobiliari. E poi un grande plus che abbiamo è che abbiamo un background dell'agente immobiliare. Quindi parliamo la stessa lingua dell'agente immobiliare. E quindi si sente compreso nei processi, nell'utilizzo, nelle obiezioni che può fare un cliente. E quindi capendo la mentalità dell'agente immobiliare possiamo allinearci e far sì di rendere soddisfacente la user experience sua e dell'utente finale. Prima detto che non solo aiuta a concentrarsi sulla propria attività a questo vostro servizio, ma anche a migliorare la redditività e il business. Ora andiamo verso una fase di economia a crescita lenta, se non addirittura negativa. Come può un agente immobiliare o un'agenzia immobiliare riuscire a comprendere i vantaggi proprio in termini economici del vostro servizio? Voi nel momento in cui presentate l'offerta spiegate anche quali sono i risparmi, immagino, in termini di tempistiche? In un mondo che cambia, oggi si sente tanto parlare di ESG, si sente parlare di ecologico. All'inizio il nostro messaggio era anche contribuiamo all'ambiente. Quanta carta non viene stampata? Quanta carta possiamo risparmiare? Già quello è un risparmio e contribuisco all'ambiente. Oltre a questo, ripeto, molte volte non si pensa all'investimento che devo avere nel mio tempo, che ha un valore, ha un prezzo il mio tempo. E nello stesso tempo al tempo che può essere investito da un mio collaboratore che ha un costo. Tutto questo può essere facilmente bypassato grazie alla tecnologia che permette di essere più veloci, più dinamici e magari delegare meno all'esterno e quindi meno investimenti in risorse che possono fare altro, non che spariscono ma che fanno altro, che possono emergere per il vero valore che non è la burocrazia. La burocrazia non crea un valore intrinseco. Invece grazie alla tecnologia c'è la possibilità di far emergere quel valore di quella persona che magari si dedica tempo a fare documentazione, a fare magari qualcosa di più produttivo anche per l'agenzia immobiliare. Ad esempio, come dicevamo, acquisire e vendere. Avete provato a fare una casistica, a capire quali sono i contratti per i quali vengono utilizzate maggiormente le firme digitali in Italia e quali invece sono gli ambiti in cui l'adozione è ancora bassa e c'è potenziale di crescita? Tutta la contratualistica immobiliare, dall'incarico al foglio visita, addendum, allegati, proposte d'acquisto sono quotidianamente utilizzate dagli agenti immobiliari che utilizzano il nostro strumento. Non c'è un documento che emerge rispetto a un altro, perché comunque come dicevo prima, la nostra tecnologia, la nostra piattaforma permette di seguire il processo end to end. E quindi prima passo dall'incarico, poi incomincio a fare le visite e quindi devo firmare, magari un foglio visita, magari lo devo firmare davanti al cliente prima di farlo salire e poi dovrò firmare una proposta d'acquisto se questo vuole comprare. E quindi tutto questo processo segue un iter ben preciso e all'interno della piattaforma possono utilizzare tutta la documentazione necessaria per seguire il processo alla lettera. Per concludere, c'è qualche progetto nuovo sul quale state lavorando e che ci può anticipare? Sì, assolutamente, siamo sempre in forte entusiasmo per creare processi nuovi, per creare know-how da portare nel settore. E quindi la ricerca e sviluppo è sicuramente fondamentale. Noi stiamo lavorando tanto, come dicevo prima, sull'esperienza utente, che oggi è la cosa più importante che c'è. E quindi stiamo lavorando tanto per migliorare quella che è un'esperienza utente, migliorare quella che è un'interfaccia grafica della piattaforma e aggiungere quei servizi che abbiamo visto possono essere veramente di valore per l'agente immobilare. Considera che il nostro strumento è utilizzato tantissimo anche da broker esteri per le compravendite internazionali e quindi forniti di servizi di pagamento, piuttosto di servizi di deposito, di escrow, sicuramente possono essere servizi di valore che vengono aggiunti già a una piattaforma che crea un iter ben preciso. Inserendo altri strumenti per seguire tutta la filiera, sicuramente possiamo portare ancora più valore all'agente immobilare. Quindi stiamo lavorando tanto ricerca e sviluppo e stiamo anche lavorando per rilasciare una piattaforma che nel 2023 verrà rilasciata. E quando parliamo di esperienze utente intendiamo ciò che prova chi sta utilizzando quello strumento, quindi la facilità d'uso e l'utilità che ne derivano, giusto? Esattamente. Grazie mille allora. Grazie a te.